In Nightmare numero 6, il sesto capitolo nel mondo dell'orrore di Nightmare, on Elm Street, i cittadini di Springwood decidono di porre definitivamente fine al dominio di Freddy, sui loro sogni. Freddy finalmente si confronta con l'unica persona che non è mai stato capace di sconfiggere, una psicologa che ora scopre la fonte degli incubi di tutta la sua vita, la figlia di Freddy.